che ci siamo allora benvenuti a questo appuntamento per le parlare della sagra della pecora a spaziavento il 31 il 32 33 luglio 2018 qui con noi studio abbiamo elviro che sarà con noi in concerto appunto alla saga della pecora elviro quale sarà la scaletta e quali saranno i prenosti di dato piacere per salve non lo so via e non te lo so dire e c'ho da fare sono se capito poi c'ho da fare perché e senta e mi giri con prude capito mi gira non ce la fa e sono messo in merda e poi vada senti mi hanno dato un pallino e gli ero un pacco se che sono tornato a pravo a cercare il marocchino gli voglio mettere la mano addosso fa